Noi oggi vediamo che cos'è il toro adesso, purtroppo o per fortuna dipende dalle giornate, dipende dalle partite, dipende dalle situazioni, ma una persona si è chiesta un giorno, ma cos'era mai questo toro? Questa persona l'abbiamo qui, ospite, graditissima, tra l'altro si tratta di Sabrina Gonzatto, scrittrice, sceneggiatrice, giornalista, insomma di tutto. Allora Sabrina, che cos'era mai questo toro una volta? Ah beh, questa è una frase che è il titolo, che dà il titolo al mio primo libro, da cui poi viene stato tratto un fortunatissimo spettacolo teatrale. Io racconto in questo libro che, vorrei solo sottolineare, non era destinato ad essere pubblicato e tantomeno sceneggiato e poi rappresentato in teatro. E' un libro dedicato a mio papà, dieci anni fa l'ho scritto di getto in una giornata e quando io ero piccola seguivo mio papà allo stadio. E lo seguivo, ed ero veramente piccola perché non avevo ancora sei anni quando lui mi portava con sé, e lo vedevo un po' in maniera ironica questo accompagnare il papà allo stadio. Però, per il fatto che accompagnassi lui allo stadio, mi sembrava tutto bello. Però io sono sempre stata un po' ironica e anche crescendo lo sono rimasta. Certamente sono di fede granata, cresciuta in una casa granata, e da questo libro poi ho scoperto di essere una scrittrice, lo metto sempre tra virgolette, e poi ne sono arrivati altri di libri. Ma cos'era mai questo toro? E' un po' anche su quella frase dedicata ai Beatles degli stadio, quella canzone di qualche anno fa. Dimmi che erano i Beatles, no? Esatto. E' un grande patrimonio comunque il toro, sia dal punto di vista cittadino, ma non solo, per la sua storia, per i suoi pregressi, effettivamente un patrimonio da condividere con l'umanità. Tant'è vero che, riferendosi proprio alla conclusione di Sabrina, vorrei sottolineare l'unicità dell'essere tifoso granata. E' una cosa che ho scoperto, chiaramente nel corso degli anni, crescendo anche dal punto di vista sportivo, il fatto come essere tifoso del toro è qualcosa di particolare, è uno stato d'animo. Non è come essere, mi perdonino le altre tifoserie, ma l'essere tifoso di qualsiasi altra squadra è bello nella misura in cui la squadra ti dà soddisfazione, vittorie, eccetera. Ma l'essere tifoso del toro è un percorso inestricabile, è una sensazione inestricabile. Ma già dalla nascita il toro comunque ha una sua, secondo me, direzione molto precisa. Nasce da una costola della Juventus e sono un gruppo di dissidenti, quindi già proprio nel DNA di questa squadra c'è qualcosa di diverso. E poi c'è stata Superga, Superga in un momento in cui quel Torino vinceva tutto e quel tragico incidente appunto sulla collina ha effettivamente firmato poi una serie di episodi brutti che hanno siglato la storia di questa squadra. Certamente tifare per il toro, io penso a un bambino di oggi che non ha mai visto la sua squadra vincere perché lo scudetto è del 75, 76. Coppa Italia è degli anni 90 con Bondonico e poi non c'è più stato nulla. Poi c'è stato il passaggio, il lodo, tante vicissitudini, tante persone anche che hanno speculato su questa squadra. Ma nonostante tutto il tifoso del toro rimane così attaccato alla propria squadra e io dico da diventare quasi un amante perché solo un amante può avere un atteggiamento di così grande attaccamento. Hai parlato prima di Superga Superga è il momento in cui è uno spartiacque è il momento in cui la storia diventa leggenda. Sì, sì, sì. Questo è e questo fa rabbrividire. Io amo molto andare a Superga non solamente nel fatidico 4 maggio il giorno in cui avvenne l'incidente ma anche in altri momenti. Lassù effettivamente si respira e si vive un'emozione molto molto particolare ma non è solo per i tifosi del toro è per tutti. Ed effettivamente questa energia di questi uomini e di queste donne che facevano parte dell'equipaggio che si è appunto dissolta lassù secondo me è viva ed è molto presente. Sabrina, io adesso ti faccio un nome anzi, prima una definizione poi un nome che mi aiuterà poi ad andare avanti e a farti la domanda successiva la quinta del buitre Raffaele Martin Vasquez. Io sono stata innamorata di quest'uomo ricordo che avevo tagliato era gli anni 90 quindi c'era insomma il campionato del mondo era qui in Italia e l'ho visto lì la prima volta a giocare nella nazionale spagnola. Già da lì a me era piaciuto moltissimo poi era in odore di entrare nella squadra nella squadra granata e da quel momento è diventato effettivamente il mio idolo. Ricordo che ho tenuto per tanto tempo una avevo ritagliato dalla stampa una sua foto che ho tenuto su una mensola della mia camera per molto tempo e l'ho rivisto quando c'è stato appunto il centenario diverso naturalmente quindi a volte sarebbe meglio non rivedere le persone. Però magari conservano sempre un po' di fascino. Sì, lui conserva sempre il suo fascino il suo modo di essere però io l'avevo sempre solo visto in campo e non invece così vicino ed è stato un grande come sono stati grandi anche tanti altri. Sì, infatti faceva parte di quella famosa gruppo insomma La Quinta del Buitre Raffaele Martín Vasquez non me li ricordo tutti a dire io ne ho anche Martin Vasquez Butraghegno Mitchell Sanchez e non lo so me ne manca uno insomma La Quinta del Buitre del Real Madrid anni 80 Raffaele Martín Vasquez ha fatto parte di un grande toro in cui c'era Casa Grande Aguilera e altri Policano eccetera il cui presidente era Borsano allora parliamo di presidenti per dire che Sabrina Gonzatto ha scritto un altro interessantissimo e bellissimo libro sull'uomo che forse è rimasto più entrato più nell'immaginario collettivo nella storia nelle passioni nell'amore della tifoseria Granata Orfeo Pianelli il presidente del Toro Campione non abbiamo il tempo per raccontare bene chi era Orfeo Pianelli per cui ti chiederò un esercizio difficile di sintesi quello di raccontarcelo in pochi minuti chi era Orfeo Pianelli io non l'ho conosciuto ho conosciuto però la figlia Cristina e l'ho conosciuta la prima volta nella loro casa a Villefranche dove il papà era appena mancato e in quella casa bellissima meravigliosa sulla baia di Villefranche tutto respirava di lui una bellissima carriera la sua sia come presidente del Toro ma non ricordiamo non dimentichiamo che lui è stato comunque un grande industriale la Pianelli e Traversa era una delle aziende più importanti della nostra della nostra città e non solo conosciuta in tutto il mondo lui è stato il presidente più amato anche se in quel periodo lì era molto contestato perché poi da quanto mi hanno detto sia Cristina che il nipote Giorgio loro hanno subito tantissime angherie da parte dei tifosi quando la squadra non vinceva è stato in carica come presidente 19 anni io ho vissuto nell'ultima sede loro del Toro quell'incorso Vittorio Emanuele e lì abbiamo anche fatto una grande festa nel 2008 e Cristina per la prima volta era ritornata in quella sede non aveva più potuto entrare perché a loro era stato addirittura interdetto di andare allo stadio questo libro nasce perché Cristina ha letto ma cos'era mai questo autore e mi chiese un giorno perché non scrivere un libro analogo per mio papà era una cosa che avevamo nel cuore che poi è diventata concreta quando ahimè Cristina è mancata nel 2010 io quel giorno ho deciso di scrivere questo libro per lei ed è questo libro è per lei come se l'avesse scritto lei e naturalmente anche per Giorgio che poi ho avuto modo di conoscere e di apprezzare se noti Orfeo Pianelli nella grande a parte Ferruccio Novo però Orfeo Pianelli anche per questa sua immagine se tu parli con i giocatori che lo hanno conosciuto lui aveva questa grande attenzione nei confronti dei propri calciatori e li considerava come dei figli e questo effettivamente non potrebbe più accadere nel calcio attuale e lui è un unicum 19 anni sono 19 anni allora ricordo ancora tutti i tifosi Granata ma non solo perché questi sono libri che qualsiasi amante del calcio e dello sport deve leggere ma cos'era mai questo Toro e Orfeo Pianelli il presidente del Torino campione chiudo questo argomento perché ci manca pochissimo tempo noi vorremmo parlare con Sabrina di mille altre cose chiudiamo solo ricordando che Sabrina ha recentemente scritto un libro di fiabe di poesie sì è un libro in realtà che non è mai stato pubblicato ma è un progetto questo legato al Natale a Torino di due anni fa queste fiabe una al giorno le facevamo in piazza le fusi alle 17 accorrevano tutti i bambini con le mamme ed era una fiabe al giorno dal primo dicembre al 6 gennaio ed erano rappresentate ecco per questo non le abbiamo pubblicate perché erano rappresentate dagli attori di Casa Teatro Ragazzi con la regia di Giulio Graio è stata una bellissima esperienza perché sono tutte fiabe che nascono appunto dalla mia fantasia legate a Torino legate al Natale a Torino sempre con una componente anche molto legata alla formazione dei piccoli e dei meno piccoli perché sono fiabe sia per i bambini che per gli adulti non è un caso che abbia esordito con una fiaba dedicata al derby perché quella sera lì qui caschiamo sempre quella sera lì c'era il derby allora quella prima fiaba fu dedicata al derby allora Sabrina Gonzatto è stata ospite qui da noi Sabrina Gonzatto allora riepiloghiamo sceneggiatrice giornalista scrittrice storica del toro tifosa del toro scrittrice di fiabe e ricordiamo alla fine anche direttrice commerciale e pubblica relazione direttrice marketing e pubblica relazione del CEPU esatto e allora noi abbiamo deciso che ci metteremo alla fine di questa intervista a scrivere un libro ma cos'è mai questa Sabrina grazie noi vi ringraziamo per averci seguito ringraziamo Sabrina Gonzatto abbiamo scherzato un attimino prometto ci ritroveremo con grande piacere grazie grazie a te a presto grazie a tutti grazie a tutti